Martufello, per la serie a volte ritorna... Eh? Era morto. Oh, oh, oh. Ma perché è morto? Perché sono morto? Si accomodano, si accomodano. No, ma basta fare dai soldi dei fiori perché sono vivo, eh. Eh sì, ma me l'hanno detto che invece... Ma chi ce l'ha detto? Ma non sono morto. L'ha letto sui giornali. Ma lei non è che se ne vede qualcuno vuol dire che è morto? Questo sta benissimo. Guardi che fiori, insomma, vabbè, un po' di cigoria. Che, che, che cigoria? Martufello, benvenuto, è piacere di incontrarla. Grazie. È un piacere. La signora Flavia Vento ha posto una barriera di 55.000 euro. Facilmente superabile, dipende dalle sue conoscenze. Martufello, per me è una gioia poterle dire che le domande che ora le verranno rivolte non le rivolgerò io a lei e tantomeno al maestro Laurenti. Chi? Ma gliele rivolgerà un uomo su cui si è avvitata per tantissimi anni e continua oggi ad avvitarsi la storia della cultura e della televisione italiana. No. Io sono onorato di avere a questa puntata il maestro Ninni Pingitore. Prego maestro. Prego maestro. Prego maestro. Guardi. Mi sedia e su sedia. Ecco da qui. Guarda che tripletta che si rivede qua. Io ne vado. Eh c'hai paura. Non me ne vado. Lo so, io ero terrorizzato. Ai tempi di beato tra le donne non mi toccato. Perché tu? Tu mi hai toccato prima. Non è vero, capito? Lo vedi? Allora, se si siede cortesemente il maestro Ninni Pingitore del quale ho temuto le ire durante i lavori che abbiamo fatto insieme è sempre serio talvolta anche spietato. Ora rivolgerà le domande a lei. Maestro è un piacere averla qua. Grazie, grazie. È un piacere mio essere qui in questo contesto. Signori, buonasera, grazie. Ah, lei l'ho vista. Sì. Lei faceva il marinaretto. Marinaretto. Bravo. Scusi, l'ho vista prima di sedersi. Sì. Salutare la contessa de Blanche. Sì. Noi ci conosciamo da un 152 anni. Per bacco. Per bacco. Quando ne avevamo 30. Ai tempi dei pterodattili. Pterodattili. Ma io ho letto il libro della signora de Blanche. Ah, sì? E pare che... Che pare? No, che pare. Sembrerebbe che... Che? Birbante di un fingitore. Cosa ha detto? Che ha detto la de Blanche? Ha detto... Che ha detto? La de Blanche è una signora, non può aver detto nulla. Invece ha detto... Ah, sì? Magari non l'ha detto, ma l'ha scritto. Esatto. Non l'ha detto, ma l'ha scritto. Eh, vedi le parti si... Si capovolgono. Si capovolgono ormai. Comunque lei è stato sempre un gran bel maschione. Grazie amico mio. Bravo, 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 bravo. Eh? Com'era sto vingitore? Com'era questo vingitore? Fuoco e fiamme calabresi, eh? Beh, ci conosciamo da una vita. Dai, questa l'ha già detto. È un gran signore, Ninni. Bravo. Devo dire, è un gran signore. Io lo conobbierò... Io ero più piccola, lui era più grande. Ah. Questo tanto per chiarire. Siamo rimasti amici... Questo tanto per chiarire. Siamo rimasti amici tutta la vita. Abbiamo anche avuto una love story. È quello che volevo dire io. Io non so, non ricordo. Se c'ero ero girato. Ma non c'ero... Oh, Paolo, Paolo. Paolo, Paolo, non c'è da vergognarsi. Io ho avuto gli uomini più importanti del mondo e lui, devo dire, un gran signore, una persona molto intelligente... Ma non sono io che mi vergogno. E sono fiera di aver avuto una love story. Ma senza dubbio, però, lui avrebbe gradito il silenzio. No, no, no. Ma non è vero. Sì. No, allora, lui è signore, non è come Alex Belli che era... Ma che c'entra sto poraccio adesso? Sta là in fila, bono, bono. Non ha detto niente. Una volta che non rimorchia. Lasciatelo in pace. Cosa ho fatto? Basta, basta con questa cosa. Se no, veramente, mi trasformo in un signorini qualunque. Grazie, Patrizia. Veramente. No, ricordo la realtà. Le domande sono un bagaglio di cultura. Un bagaglino. Un bagaglino, piccolo bagaglio di cultura. Prego, maestro, a lei l'onore e l'onere di domandare a Martufello. Mi devo sedere? Stavo a fare un ginocchio, però. Eccoci. Qui ti è la domanda. Allora. Martufello. Martufello. Sei Martufello. Sono Martufello, fortunatamente. Prego. Se vedi che è difficile. No, se vedi, se vede. Se vede che è difficile, dottor Fingito, vada all'altra. Sì, va bene. Di domanda. Allora, senta Martufello. Quando senti nominare la battaglia di canne, pensi a un'operazione antidroga o a un combattimento tra antichi eserciti? A un combattimento di antichi eserciti. bravo, bravo. Bravo, bravo. Un brizzo dell'antitrona. Queste sono cose pazzesche. Quindi tu alludi. Perché è la scuola che sono andato, Ninti. Ma non se ne ricordano. Ma come no, la maestra, la maestra che va dal betello, dice, non so svolto più gli alunni che mi chiamano maè, maè, tu, a me mi chiamano betè, betè. Capito? Va bene. Attenzione. Tu ricorderai allora la battaglia di canne del 206, del 206, del 216 avanti Cristo tra Annibale e i Romani, comandati da Giulio. No, compravviate il qualcuno. Stavo a dire Giulio, il parente mio, mi ha detto, mi raccomando, alle domande che ti fa vingitore. Consule Terenzio Varrone, Plebeo e Emilio Paolo Patrizio che ci rimise la pelle. Ma queste sono cose che poi ci pensano con le autorità giudiziali. Ma canne in Francia? Allora. Canne in Francia? No, lì poi hanno fatto il festival. Canne, canne in Campania. Canne in Puglia. 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 Ci sono voluti circa otto anni per costruire il Colosseo o la Salerno-Reggio Calabria. Il Colosseo. Ma te credo la Salerno-Reggio Calabria. Bravo, ramponissimo. Otto anni. Otto anni hanno fatto il primo casello. Tu naturalmente sai anche che il Colosseo venne iniziato da Vespasiano. Vespasiano. Bravo. E poi l'hanno messi pure sul lungodevole. Uno quando ci ha preso, l'approfitta. Anni e anni di bagaglino lo hai edotto a meraviglia. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Se indovini questa andiamo al piricozzato. Quando senti la frase tu cuocue, sai che è un programma di gastronomia o il grido di un uomo che sta per defungere? L'ultimo, quello che sta per defungere. Il grido di un uomo che sta per defungere. Esatto. Giulio Cesare, no? Giulio Cesare. E perché disse tu cuocue a figli di me? Perché io lo stava... Chi lo stava per pugnalare? Il figlio, quello venuto male. Bruto. Bruto. Era suo figlio? No. Era il figlio di una sua amante. Che si chiamava Serviglia. Serviglia. Benvenuti al consorzio Nettuno. Oggi lezione di storia. Grazie maestro. Grazie. Io la ringrazio. Gli ho chiesto questa cortesia, non solo per ringraziarla, di tutto quello che ha fatto per me anche, nella lunga carriera che mi ha permesso di iniziare al meglio, ma poi anche perché ha scritto questo bellissimo libro che si titola Confessioni spudorate, dove parla di tutto tranne che della De Blanc. Ed è un libro nel quale una splendida donna attraversa le epoche con il suo coraggio, con la sua intraprendenza. Ed è un libro fondamentalmente di storia ma attraverso il coraggio e la forza di una donna. Perfetto. Mi pare che la descrizione sia perfetta. Io non saprei aggiungere altro, tranne che la donna si chiama Elena. Elena come Elena di Troia. Elena di Troia, tu sai chi era. Come no, la parete di io. Bene. Io la ringrazio. Prego. Maestro, sono costretto a congedarla. E lui resta qui? Lui resta qui perché ha vinto. Ha vinto? Ah, sì, che è una cosa da non crederci. Ha vinto. Lo so, è incredibile. Pare strano. Ciao, rego mio. Tant'è. Arrivederla maestro. Grazie. Confessioni spudorate, Pierfrancesco Vingitore. Ciao ragazzi. Che uomo, che uomo, il Pierfrancesco. Coraggio, adesso andiamo a cercare di superare i 55 mila euro. La soglia possa in essere dalla signora Flavia Vento. Con codesto pidicozzo, che ti sei meritato. Hai saputo rispondere a tutto. Complimenti, complimenti, complimenti. 75 mila. Ah, tu sei più vivo che mai. Che vuoi fare? Rimpi. 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 In fila e Marco Ferro raggiunge la postazione. Avanti un altro. Hola. Buonasera. Guarda che bellezza. Benvenuta signora.